Il corto metragico? Allora quanti vedi da domenica? Quattro, ero da lunedì e due sono entrati per ripararsi dalla pioggia. E' buonasera adesso. Ascoltate, la situazione è in france. Dobbiamo farci dare una mano. E' arrivato il tecnico valorizzatore. Valorizza quadri, manufatti, sagre, feste di paese. La tua pagina Facebook è bloccata? Noi la sblocchiamo. Il vostro museo non valorizzato fa fumo? Noi togliamo il fumo dal vostro museo non valorizzato. Tu sei a freddo, giusto? E questo è il museo? Esattamente. Sono il signor Wuhlman e valorizzo cose. Ah sì, ne abbiamo di cose. Sì, me l'hanno detto. Questa è la mia squadra. Possiamo accomodarci? Sì, prego. Veniamo subito dal solo, signori. Se sono stato informato correttamente, la situazione è grave e la raggente è volo. Dico bene? Al cento del cento. Museo non ha traietto di nessuno. E l'ultimo visitatore è in grado ad andare in panni. Ci è stato fatto capire che i fondi sono buoni, la comunicazione è scarsa. Sì, proprio così. Bene, questo ci dà 40 minuti per risolvere la questione. Che se fate quello che vi dico, quando ve lo dico, sono sufficienti. Portateci anche le cose. Sì. 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 Grazie a tutti.